Ciao, oggi parliamo di pulizia meccanica di tubazioni. Parliamo sempre di prodotti rigidi per pulire e stasare in maniera meccanica e non con l'alta pressione scarichi domestici. Quindi parliamo di lavandini, parliamo di colonne, parliamo di scarichi diciamo a partire dal 32 mm fino a 100, quindi praticamente questo campionario di tubi che vedete esposto in questo modello. Da qualche mese a questa parte Rigid ha presentato un prodotto molto interessante che si chiama Flexhaft. È disponibile per il momento in due modelli, Flexhaft K102 e K9102, e K9204. Qual è la differenza tra i due modelli? Qua vediamo una ruota che contiene 15 metri di cavo da 6 mm, un cavo molto flessibile all'interno di una guaina rossa in plastica. In questo caso invece parliamo di 21 metri di cavo da 8 mm all'interno di una guaina sempre in plastica. Di per sé le macchine non hanno un motore che fa girare il cavo, vengono utilizzate con un normale avvitatore elettrico. L'avvitatore elettrico viene posizionato al centro della macchina e fa ruotare ad alta velocità l'albero. All'estremità dell'albero viene posizionata una catena che in questo caso è una catena per diametro 50. Ci sono varie misure di catene e la rotazione ad alta velocità contribuisce a pulire, a smuovere, a frullare i sedimenti, gli intasamenti che bloccano le tubazioni. Qual è il vantaggio di queste macchine? Sono macchine estremamente compatte, economiche perché non hanno nessun costo di esercizio se non il consumo della batteria dell'avvitatore e a lungo andare una manutenzione ordinaria dell'albero che periodicamente va lubrificato con il lubrificante che è fornito in dotazione con la macchina all'interno di questa comoda ed elegante borsa rigid e quindi sì non c'è consumo di carburante per fare azionare motori pompe o quant'altro bensì semplicemente un azionamento elettrico grazie a un normale avvitatore ed ovviamente il consumo che può avere l'utensile. In questo caso vediamo che il modello piccolo che è indicato per tubazioni da 32 a 50 mm viene fornito con due kit di catene uno appunto per il diametro 32 e uno per il 50. Ugualmente il modello più grande con catene per diametro 50 70 e catene per diametro 70 100. Si possono usare utensili anche di macchinari simili che noi come Nova Contec abbiamo ampiamente disponibili però la cosa fondamentale è la pulizia meccanica ad alta velocità e cosa fondamentale una pulizia che può essere eseguita con l'assistenza della telecamera. Vediamo come praticamente l'operatorio cosa fa inserì innanzitutto predispone la zona di lavoro posiziona in maniera orizzontale lo flagship chiamiamolo così ecco l'ideale sarebbe posizionarsi mettiamoci qua per terra che forse è più comodo no? Posizioniamo l'avvitatore ecco una volta stretto l'avvitatore al perno dello flagship vediamo che semplicemente facendo ruotare l'avvitatore la catena gira ad alta velocità ecco inserendo l'estremità dello flagship all'interno della tubazione abbiamo la possibilità di seguire e ovviamente di assistere con la telecamera possiamo anche registrare così facciamo un bel video creiamo un nuovo lavoro vediamo che noi facciamo avanzare l'utensile l'estremità del cavo flagship e la telecamera in maniera parallela ecco qua nel momento in cui vogliamo far azionare la catena lavoriamo sull'avvitatore e facciamo girare l'utensile ovvero la catena ecco adesso vediamo che andremo a fresare un pezzo di carta che abbiamo posizionato ecco in questo caso noi stiamo usando una catena a dire il vero sottodimensionata perché è la catena del diametro 50 in una tubazione diametro 100 non facciamo altro che cambiare la catena mettere quella della misura corretta e andare a vedere la differenza che c'è utilizzando la catena del diametro corretto facciamo un cambio al volo il tutto si esegue in maniera molto rapida semplice ecco nella confezione è fornito anche uno spezzone di guaina che serve proprio a calibrare la distanza del della catena nel questo caso per utilizzare le intubazioni diametro 75 100 no andiamo a stringere le brugole dei nottolini non serve stringere eccessivamente vedete appunto che lo spezzone rosso in plastica fa da distanziale tra le due estremità dei nottolini ora ecco possiamo andare a inserire questa catena all'interno della tubazione diametro 100 e vedere la differenza che c'è tra i due utilizzando le due catene vedete che abbiamo raggiunto quel foglio di carta che abbiamo posizionato nella tubazione ed ora andiamo a frullarlo ecco si tratta di un utensile che viene torna molto efficace laddove c'è del calcare laddove c'è del grasso che viene frantumato grazie alla rotazione ad alta velocità delle delle catene quindi una soluzione economica se vogliamo anche igienica perché non serve portare tubi all'interno di case di appartamenti ma tutto resta è concentrato in pochi utensili quindi il flagship la telecamera e l'avvitatore il tutto praticamente si portabile da una persona autonomamente abbiamo detto due misure k 102 per diametri 32 50 k 9 204 per diametro di 50 100 chiedo alla valida regia e validi collaboratori di mandare in onda delle dimostrazioni che i nostri clienti ci stanno inviando con l'utilizzo di queste macchine praticamente un utilizzo in contemporanea con la telecamera soprattutto è molto vincente questa macchina perché è piccola consente di passare con un cavo da 6 mm in curve tecniche a 90 gradi anche su tubazione del 32 cosa molto ardua con i tubi lavelli degli spurghi delle idropulitrici dei gruppi di lavaggi mentre qua ci passiamo facilmente catena rotazione veloce strasatura immediata ovviamente dipende dalla complessità dell'ostruzione però si con un cavo così flessibile si passa facilmente si raggiunge facilmente anche l'ostruzione più impegnativa ecco vedete no proprio come la velocità l'alta velocità della catena va proprio a frantumare a frullare ecco proprio un frullino il grasso il calcare l'ostruzione a chi rivolta questa attraestatura a tutti coloro che devono effettuare interventi di manutenzione sugli scarichi quindi idraulici spurgisti ma anche manutentori manutentori di ospedali di case di riposo di strutture alberghiere di camping di campeggi quindi tutti coloro che devono effettuare manutenzione sugli scarichi cercano una soluzione affidabile flessibile ma soprattutto economica quindi sì con costi contenuti facilità d'uso questo è fondamentale no quindi un minimo di esperienza ma soprattutto la possibilità di vedere in tempo reale quello che si sta facendo quindi rapida efficace e dall'efficienza dimostrabile e probabile quindi sì chiunque deve effettuare manutenzioni troverà nelle macchine flagship un valido strumento di lavoro